Grazie Presidente. Questa mattina in Piazza del Popolo si è tenuto un grande momento di unità all'interno delle forze dell'ordine. Il Sindacato Autonomo di Polizia ha organizzato una grandissima manifestazione assieme a tutte le altre sigle dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, della Polizia Municipale e anche delle Guardie Giurate. E la richiesta che è stata coralmente espressa è quella di poter contare da parte dello Stato di adeguate tutele professionali pur volendo garantire la massima trasparenza. E nel fare questo i miei colleghi hanno individuato il disegno di legge che ho presentato alcuni mesi orsono qui alla Camera dei Deputati come testo guida per le loro rivendicazioni. All'articolo 1 infatti io mi sono premurato da Poliziotto di evitare di chiedere qualsiasi sconto per responsabilità. anzi, ho chiesto che venisse collocata su ogni divisa, in ogni auto, in ogni cella di sicurezza, una videocamera in grado di videofonoregistrare, perché gli operatori delle Forze dell'Ordine vogliono rispondere di ogni loro respiro di fronte alla comunità, ma non possono finire la sbarra ad ogni asino che raglia. Questo è il grido che è arrivato e questo è l'invito che faccio a quest'Aula, ai colleghi e alla Presidenza, quello di calendarizzare al più presto questo disegno di legge perché i servitori dello Stato hanno questa necessità e il Parlamento non può rimanere insensibile. Non voglio mancarle di rispetto, Presidente, ho la cosa, ma mi sento di dover mostrare questo simbolo. Deve rimettere la giacca, rimetta la giacca e si volti, non dia le spalle alla Presidenza. Grazie Presidente, mi perdoni, grazie, grazie mille. Grazie.